Oggi vi presentiamo l'opportunità 2018 stage ad Alicante in questa meravigliosa città in Spagna e abbiamo organizzato per voi degli stage all'estero incredibili. Gli stage che organizziamo sono disponibili per ragazzi di 16 anni a 18, quindi ragazzi delle superiori e quindi per ragazzi scuola-lavoro, oppure anche per i ragazzi dell'università, quindi stage curricolari e non. Potrete scegliere il settore di vostro interesse e anche la durata dello stage. L'importante è che sia di un minimo di tre settimane, che abbiate un livello di spagnolo tra B1 e B2. Ora vi trovo qui con Maria FK che è con lei che organizzerà tutto lo stage per voi e sarà anche il vostro tutto esterno. Quindi una volta a settimana dovete incontrarvi con lei per valutare come stanno andando lo stage e valutare il vostro miglioramento. Ora vi lascio un attimo con Marietta che vi spiega un po' come funziona tutto quanto. Hola chicos, sono Marietta e come ha detto Alicno, vi aiutare in tutto il processo di le pratiche in le imprese. Estariamo encantati di ricevere e aiutare in tutto quello che vai a necessitarci qui. Tutte le imprese usano queste esperienze che necessitate, le le famiglie che vi accoglieranno hanno moltissima esperienze durante molti anni e vi aiutare un po' come la cultura spagnola che è normalmente quello che mi piace a gli extranjeri qui. Tutte le famiglie sono situate al centro di Alicante, per questa ragione non dovete necessitare nessun medio di transporte, potete andare e camminare per tutto Alicante. Alicante, se non sapete dove sta situato, sta molto vicino a Valencia e sta cerca del mar, così potete andare a la playa, potete andare a vedere il castello, tutto sta molto vicino e molto facile da visitare. La impresa, già Anita ha detto, abbiamo moltissimi settori, potete ricevere molta esperienza a lavorare. E anche, di passo, praticare il spagnolo spagnolo. Inoltre delle pratiche in impresa, offreciamo anche corsi di spagnolo per migliorare il vostro spagnolo, abbiamo corsi intensivi e classi particolari in parella o individuale. Inoltre, animarvi a venire, qui vi spero, vi aiutare, sono una buona tutora e per qualche cosa, qui sto. Asi che, hasta luego e nos vemos pronto. Anita, se volete di dire algo mas? Grazie ragazzi, quindi se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarci, potete scriverci a info-kiva-international.com, vi lascerò anche qui sopra scritto la nostra mail. e non vediamo l'ora di ricevervi ad Alicante questa meravigliosa città spagnola, piena di cultura, divertimento, sole ed è stupenda. Si, veramente. Quindi, a prestissimo, ora vi lasciamo il video che vi farà vedere un po' come è Alicante. A presto, adios! A presto, adios! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.